C'è no dai, ditemi che questa cosa è brutta dai, c'è bellissima come cosa C'è, ma perché io devo fare queste cose, devo saperlo pure io quasi quasi Vabbè, allora ci hanno attaccato, sono crepati, festeggiamo e... Ok, basta, mettiamoci troppo entusiasmo se no esplodiamo E allora, comunque, oggi, cioè ieri, era iniziata la battaglia su Clash of Clans Io devo attaccare il mio corrispettivo, cioè il 38, io sono il 32 Io quindi devo ammazzare il 32, che è già morto quindi ammazziamo il 38 Ricognizione giusto per sicurezza Mica, è schifo, attacca Apo, unità Vediamo quanti mal arrivano, va? Per adesso stiamo a 92 su 210 di esperienza Non arrivano unità Eh, vabbè, che è Ok, ok che è su unità, però non così troppo forti Vabbè dai, attacchiamolo Attacca PANSAIIII 2 maghetti e spaccano tutto adesso ok ok mappa valuta recensisci mai 60 punti ok nice io posso attaccare anche altri ok no cioè si però non ho unità quindi non posso attaccare allora a destra 4 di sti panzerotti e una ventina di arcieri 15 li facciamo qua e 15 qua vai così è più o meno ben distribuito e boh e boh scusatemi se un attimo mi interrompo perchè sto guardando anche la chat di twitch vedo che nel frattempo stavo streamando e non ho siamo mai ricordato so guarda che c'è da fare la guerra su clash of tans e mi sono ricordato e adesso l'ho fatta mi fa ancora male la gola mi sa che andrà a finire come l'anno scorso che sono stato con la tosse per 70 anni e boh diciamo che per questo mini video che siccome non ho altre truppe e mini se no durava ancora un po' di più e tutto quindi al prossimo video che vedremo cosa avrò fatto però adesso ho solo potenziato vabbè queste mura a livello 4 queste qua le ho portate tutte a livello 3 ho modificato un attimo la base e raggio anche bene anche questa in realtà cioè guardate questa mi ha tirato 62 barbari è un genio un pozzo di scienza boom morta cioè mamma mia dai ha resistito bene ha resistito bene quest'altro invece ha tirato tipo il mondo e vabbè qua c'è ancora la difesa bassa no il maghetto povero i giganti di non so che livello non li ho visti e poi vabbè così hanno vinto e grazie tanto e grazie tanto però io ho massacrato un po' di un'età erano due giganti di livello 7 ciò ciò fa capire un po' di roba del tipo e devo raccogliere questo cassa di gemma però sto potenziando qua la minera d'oro e chi peraltro chi sto potenziando qua un'altra minera d'oro lo sto portando uno al 7 e l'altro all'8 quindi uno ci avrà il lucchetto e l'altro no e boh diciamo che per questo video è tutto quindi alla prossima ciao ciao